Buongiorno mister, eccoci qui nel pre-Udinese Sassuolo, siamo alla vigilia. Vorrei partire chiedendole un po' come è andata questa settimana e soprattutto visto che c'è stato un altro mini raduno, chiamiamolo così, come ha visto la squadra, come sta insomma un po' il check generale di come stanno i bianconeri. Ma questa è una società di alto livello, con una proprietà che ha una storia incredibile, con un direttore sportivo di grandissima esperienza, con un gruppo, un team di grandi professionisti, una grande squadra di uomini veri e uno staff tecnico, uno staff sanitario che lavorano tutti i giorni per migliorarci. Dico questo perché è un grande segno di responsabilità, di voglia di far bene, di quello che devono fare i professionisti. Qua dentro, famiglia Udinese, siamo tutti concentrati e lavoriamo tutti i giorni per offrire sempre il meglio di noi stessi. Quindi anche questa settimana, questo raduno anticipato, è significativo e vuol dire proprio questo, vuol dire che qua dentro siamo tutti sul pezzo. Non siamo stati contenti tutti quanti della prestazione di Torino, non stiamo qua a ridirlo perché il passato non serve più e non ci interessa più quello che conta il presente, quindi proprio perché il presente è quello più importante, qui abbiamo intensificato ancora di più il lavoro che è il dogma, la parte centrale di questo progetto Udinese. Quindi un'ottima settimana con una squadra prima di tutto fatta di uomini e poi da ottimi calciatori che si sono allenati come dei forsennati con grande fame, con grande concentrazione per preparare questa partita. Ha parlato di storia dell'Udinese, mi torna in mente un pochino anche quello che è accaduto ieri sera ad Alberto Zaccheroni, se vuole dire qualcosa, insomma le condizioni sembrano comunque stabili, è sempre rimasto cosciente da quello che sappiamo, anche se ovviamente sono condizioni serie, volevo sapere se aveva un messaggio da lanciare all'ex allenatore dell'Udinese. Ma sono molto dispiaciuto, mi ha fatto molta tristezza leggere l'accaduto, questo episodio purtroppo sfortunato che è successo ad Alberto Zaccheroni, è una persona che ho conosciuto anche personalmente, è una bravissima persona, oltre che è stato un grandissimo allenatore che qui ha fatto cose straordinarie, quindi gli sono vicino e come gli siamo tutti vicini, come famiglia Udinese, perché lui guarisca presto e torni ad essere quello di sempre, quindi faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo per la guarigione. Ecco, ha parlato di una squadra che si è allenata come dei forsennati, un gruppo unito, arriverà un gruppo come quello del Sassuolo che ha vinto due partite consecutive, si è un po' tirato fuori dalla zona pericolosa, anche se poi in realtà secondo me i Nero Verdi mai hanno realmente rischiato di essere invischiati nella lotta a salvezza. Il fatto che il Sassuolo abbia vinto due partite, oltre alle caratteristiche che se vuole insomma mi potrà dire, del Sassuolo, può anche far venire qui una squadra in fiducia che anziché chiudersi proverà a fare la partita e quindi l'idea di vedere una partita aperta da entrambe le parti può essere una lettura corretta di questo match? Può essere come non può essere, quindi sicuramente il Sassuolo non lo rispettiamo perché è una squadra che ha all'interno degli ottimi calciatori, sia nei titolari che nelle alternative, tanti sono nazionali, quindi è una squadra che è due anni che è allenata da Dionisi, che sta facendo un gran lavoro, c'è la sua identità, c'è un lavoro anche degli altri allenatori negli anni, quindi una filosofia di un club che vuole giocare un calcio tecnico molto intenso, quindi lo conosciamo bene il Sassuolo, è vero che loro vengono da due prestazioni positive, con due vittorie, hanno attraversato anche loro un momento sicuramente meno bello, un po' opaco in termini di prestazione dei risultati, però oggi arriva una squadra che noi dobbiamo rispettare assolutamente, come facciamo sempre, perché noi rispettiamo tutti, però abbiamo veramente la voglia, la determinazione e la volontà, tutti quanti insieme, di sfoderare una prestazione di grande livello in casa nostra, davanti al nostro pubblico e cercare di, attraverso prima una grande prestazione, di portare a casa un risultato importante. Questo lo dobbiamo fare però con ordine, con intelligenza, leggendo bene la partita, non dobbiamo avere l'ossessione, la frustrazione del risultato, noi dobbiamo passare attraverso una prestazione lucida, organizzata, intelligente, perché le partite durano 100 minuti e noi dobbiamo stare in partita tutti i 100 minuti, cosa che secondo me non abbiamo fatto contro il Torino. Questa squadra ha sempre dimostrato di stare in partita sempre, perché abbiamo le qualità, la forza, l'intensità, la fisicità e soprattutto l'organizzazione per mettere in difficoltà anche il Sassuolo. Ecco, dal punto di vista della squadra in generale, senza andare poi ovviamente più di tanto nello specifico, ultimamente c'erano stati alcuni problemi, dal punto di vista anche fisico, come sta la squadra? Recuperi qualcuno? Non recuperi nessuno? Siamo quelli dell'altra volta? Se puoi farci un po' al punto, senza ovviamente andare a svelare nulla. La squadra fisicamente sta bene, a livello generale la squadra lavora sempre bene, fa delle ottime settimane in termini di volumi, in termini di tutti i nostri parametri che andiamo a cercare di raggiungere tutte le sante settimane, quindi su quello non ci sono mai stati problemi. Pereira è assolutamente recuperato, quindi lavora col gruppo già da metà settimana e il resto sono tutti disponibili per partecipare alla partita. E questa direi che è un'ottima notizia. Una curiosità invece su Adam Masina, come sta, come si sta abituando magari piano piano ad alzare il ritmo, come lo vede anche lei dopo un infortunio così pesante e a che punto può essere il suo percorso? Ecco, sperando insomma che... Sta molto bene, sta molto bene, sta recuperato e sta recuperando con grande velocità anche perché è un ragazzo straordinario con una forza di volontà e uno spirito sempre caratteriale, sempre molto positivo e poi un grande professionista, oltre che essere un ottimo calciatore però diciamo che adesso è la seconda settimana che lavora completamente con la squadra ci vuole un po' di adattamento perché poi passi a condizionarti non solo a livello fisico ma anche a livello proprio di situazione di gioco contrasti, cambi di direzione e quello che fa parte poi della partita vera e propria però assolutamente oggi credo che è in una buona condizione e può solo che salire e sono contento come sono contenti i suoi compagni perché abbiamo recuperato un veramente un ottimo calciatore ma soprattutto un grande uomo, un leader dello spogliatoio. E così magari oltre che essere protagonista nelle nostre interviste in tutti gli eventi sarà presto protagonista anche in campo Ne sono sicuro Come vorremmo vedere, saremo curiosi di vedere l'esordio domani magari perché no di Florian Toven in casa dopo quello positivo assolutamente come impatto contro il Torino come sta il francese dal punto di vista della condizione? Sappiamo benissimo che ci vuole ancora tempo lei l'ha detto chiaramente nelle scorse settimane ma magari qualche minutino in più nelle gambe potrebbe averlo guadagnato? Ma allora siamo nel giro di ritorno già iniziato quindi come dicevo prima qua siamo a lavorare tutto il giorno della mattina e la sera in tutti i vari reparti tecnico, fisioterapico, medico, nutrizionistico tutto, tutti lavoriamo come dicevo prima per cercare sempre di migliorarci e è chiaro che in qualcosina bisogna velocizzare perché velocizzare vuol dire anche azzardare qualcosa perché è giusto salvaguardare i giocatori è giusto gestirli bene in una progressione sempre di incremento di allenamento sempre programmata e quindi parlando di Florian Tawen sta crescendo sta crescendo lui non è che è arrivato qui lui si è sempre allenato poi è chiaro che vuoi un altro campionato vuoi comunque magari non ha eseguito non ha fatto tante partite di seguito il cambiamento anche diciamo climatico mi alleno in Messico ad altitudini molto elevate anche se per certi versi l'ossigenazione era minore è minore a quell'altitudine lì invece qui sicuramente c'è più ossigeno quindi considerando tutto questo lui ha una buona condizione quando dicevo che bisogna azzardare e velocizzare è chiaro che in termini di minutaggio bisogna forzare qualcosa bisogna forzare qualcosa perché sennò poi le partite scorrono veloci e sono sempre meno perché si sta andando poi a scalare quindi siamo nel girone di ritorno però detto questo ha fatto una buona settimana ha fatto una buona settimana continua il ragazzo anche lui come dicevo nelle altre interviste che si è venuto con grande determinazione con grande voglia il giocatore è sicuramente un giocatore di alto livello e fisicamente secondo me lui oggi è molto più avanti invece una domanda dal punto di vista mentale volevo fargli la su Tolgai Arslan c'è stato il terremoto in Turchia e Siria e lui ovviamente oltre a avere origini turche ha giocato anche tanti anni in Turchia come è stato il Gai l'hai visto scosso oppure comunque sempre sul pezzo ma è chiaro che questa è capitata è una tragedia veramente grande cioè veramente vedere quelle immagini ti rattristano e non puoi essere che solidare io sono credente fare delle preghiere per questa popolazione turca che veramente ha subito una catastrofe ci sono tanti morti molto probabilmente ne troveranno ancora degli altri io mi auguro e spero che non ne trovino più e che trovino solo gente viva ma è successo veramente qualcosa di catastrofico quindi Tolgai chiaramente è molto abbattuto è normale che sia così io come tutti noi non possiamo altro che essere vicini alla popolazione turca e sperare che sia finito tutto lì e che si riprendano più velocemente possibile L'ultima prima di chiudere invece gliela faccio sulla Dacia Arena di domani tra San Valentino e biglietti ovviamente a costi ridotti per invitare tutta la popolazione frilana a riempire lo stadio ci si aspetta un grandissimo clima cosa si aspetta anche lei dai tifosi il solito credo sostegno per tutti gli arco dei 90 minuti Le parole per i nostri tifosi non ce ne ho più nel senso in termini positivi nel senso che dico sempre la stessa cosa perché è la verità quando dico non ne ho più perché sono sempre stati sempre vicini alla squadra ci hanno sempre spinto ci credono sempre e hanno veramente sono veramente quel valore aggiunto soprattutto dentro questo magnifico stadio quindi quello che dico è questo che noi domani ritorniamo a giocare in casa ci sarà uno stadio sicuramente pieno uno stadio molto carico e noi dobbiamo sfoderare una prestazione di livello cosa che poi comunque la squadra ha sempre fatto perché poi le cose vanno sempre analizzate in una maniera analizzate e dette in una maniera molto lucida io credo che in termini di la partita col Verona l'hanno vista tutti la squadra ha giocato la squadra ha creato la squadra è stata aggressiva ha corso fino in fondo tutti hanno dato il massimo quindi io credo che il tifoso frirano apprezzi molto come si dice il sudare la maglia e non solo questa squadra sa giocare anche bene a calcio l'ha dimostrato ecco magari la prestazione di Torino forse non è stata così brillante così intensa però ne abbiamo già detto il perché l'abbiamo già analizzata e non ci interessa andiamo a domani e se la squadra è pronta quello che posso dire ai nostri tifosi è che la squadra è pronta la squadra è vogliosa è carica questo l'ho visto nel quotidiano tutti i giorni e sono sicuro che domani a livello di prestazione saremo pronti perfetto grazie mister ciao ciao